Le regioni italiane non sono riuscite, dopo tre giorni di confronto a tratti anche serrato e duro, a trovare un accordo sul riparto del Fondo Sanitario 2011 di circa 106 miliardi di euro e hanno deciso di aggiornare la discussione nelle prossime settimane. Non siamo riusciti a trovare una posizione condivisa, ma continueremo a lavorare e la conferenza delle regioni verrà riconvocata nelle prossime settimane, e quanto ha detto il Presidente Vasco Errani. Il nodo che sta bloccando l'accordo è il piano di riparto presentato dal Ministero della Salute. Infatti le regioni che hanno ricevuto di più dal riparto ministeriale, Lazio, Lombardia e Veneto ad esempio, non vogliono rinunciare a queste somme che sarebbero state loro attribuite, mentre altre regioni a partire da quelle del Sud chiedono il rispetto dell'accordo raggiunto dai governatori l'anno scorso quando si disse che a partire da quest'anno i criteri di riparto sarebbero stati aggiornati e si sarebbe tenuto conto anche del cosiddetto indice di deprivazione socio-economica, ovvero delle condizioni delle popolazioni nei vari territori, scolarizzazione, disoccupazione, condizioni abitative ed altro ancora. Nettamente contrario però il Veneto, che invece si affida al criterio scelto dal Ministero della Salute, il quale punta quasi esclusivamente sul calcolo della popolazione e sull'incidenza della popolazione anziana. Marche e Umbria hanno avanzato una proposta di mediazione che prevederebbe di tenere conto dell'indice di deprivazione, ma ha limitato la sola prevenzione. Inoltre si declinerebbe in modo differente l'indice di anzianità, modulandolo in base alle differenti classi di età. Ma anche su questa proposta ci sono stati dei no.